Questa è una tradizione che arriva a Dia di Mamma, e il nostro problema è che non è stata passata a visitare i nostri grandi in diverse case qui durante la nostra isla, ma è stata trovata qualcosa di differente. E abbiamo anche la signora e la prima dama di Arruba, che è costumabile, e si è passata a visitare e a cercare i nostri grandi. Con un gruppo di volontari, la signora Doina, passano a casa qui nella San Nicolà, Maristella nella Savaneta, San Micael Pavilion e San Pedro di Verona nella Playa. E via anche i nostri grandi non ha ricevuto un passabocca salutabile con un frutto e ma cose smac per saboreare, molto che stanno con la cuida. E la bici di Sra. Eman appone i nostri grandi non senti molto contento di poter ricevuto la pensione e bici di assinare la speciale Riba Nang Dia. Come si era, Franci? È molto buono, sì, di essere una famiglia. Vira qui, Franci goza un bollis. Sì, sì.